Questa poi non me l'aspettavo. Scusi se l'ho aggredita. Può anche lasciarla qui perché tanto non devo muovere la macchina. Avevo un appuntamento in banca, ma l'ho trovata chiusa così devo rimanere in Svizzera fino a domattina. Lei invece mette su il casco e devo dedurre che riparte subito. Io prenderò alloggio qui all'hotel Spley. Ti aveva chiamato? Io l'ho chiamata. Sì, lei. Io no. Ah, bene, ho capito. Grazie comunque, P. Le flick ci ha interrotto. Le stavo dicendo se gradisce un piccolo drink qui allo Splendid. Senza complimenti. Urca che forza io non gliel'ho fatta. Sprangetse, doig. Alla buon francese? Che te ne vai? Eccovi. Eccovi. Signorina, ha visto che l'ho raggiunta? Adesso possiamo fermar? Sì. 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 Grazie a tutti. Aspetta, fermati, ma dove andiamo? 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 Ah, chi è? Chi sei? Aspetta, fermati, ma dove andiamo? 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 Aspetta, fermati. Aspetta, fermati, ma dove andiamo? 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 Grazie a tutti. Signorina, ieri poi ti si è fermata la macchina. Lo sa che stanotte l'ho anche sognata. Sapesse per causa sua dove sono andato a finire. Ma oggi dove mi porta? Madonna mia! Moneta. Non c'è un bel caosne. Non c'è un bel caosne. Non c'è un bel caosne. Grazie a tutti.